e ben ritrovati ragazzi ben ritrovati ancora una volta nel canale del vostro amico sette decoppe e daje un saluto speciale a tutti quelli che mi supportano e mi sostengono con tanto interesse ed entusiasmo se non sei iscritto al canale ti invito iscritti al canale qua pollicione in alto e partiamo subito un abbraccio speciale va a tutti i miei strepitosi abbonati un saluto a tutti voi ragazzi e un abbraccio di cuore tutto giallo rosso e un benvenuto ai nuovi iscritti iscrivetevi se non siete iscritti basta solamente un click gratis e seguite tutte le notizie attivate la campanella per le notifiche e gli aggiornamenti oggi andiamo a vedere la situazione della roma che ruolo sarà il primo innesto perché tutti quanti me lo state chiedendo secondo voi chi sarà il primo innesto della roma saranno i tessini sarà il centrocampista l'attacco adesso lo andiamo a vedere secondo le mie analisi mie riporte le mie news ci saranno decisioni cruciali durante questa settimana e una già la detta sky che non è ovviamente un'anteprima ma una conferma di quello che vi ho riportato gli altri giorni ovvero su di bada estate sintonizza allora ragazzi voglio partire facendo questo video e darvi la buona domenica perché non ho fatto l'apertura augurandovi una buona domenica ragazzi ovviamente buona domenica a tutti quanti voi spero spero che vi stiate divertendo sapete un po di tempo seguite questo video dall'inizio alla fine attenzione perché dentro ci metto anche qualche notizietta in anteprima che ho riportato su twitter chi non mi segue vado a darvi un po di dettagli su determinate cose che non vedete in copertina ma sono giocatori da tenere d'occhio magari prossimamente perché ci possono stare delle sorprese no non lo sappiamo il mercato è sempre in movimento comunque sia oggi sky ha riportato della notizia di dibala per chi mi segue da tempo e chi mi segue anche da poco perché sono almeno da due tre settimane che sto riportando queste cose qua addirittura un mese il mio primo tweet su dibala risale un mese quando mi era arrivato il report sempre dalla fuente un report positivo in cui mi hanno fatto sapere che la roma apriva le porte le porte per trattenere dibala e ve lo racconto ragazzi prima richiesta di terossi e frittin per i prossimi anni ovvero per il triennale è trattenere dibala e togliere la clausola la roma apre serve trovare accordo morto un follo quindi dobbiamo seguire attentamente questa vicenda 24 di aprile ragazzi io non ritorno indietro con le notizie perché se mi arriva sta roba non è che mi possa andare smentita solo come va di marzio con lukaku napoli ragazzi anche quella ve lo smentite in anticipo secondo tweet che ho fatto e questo ve lo vado a dire perché ovviamente è più recente del 30 maggio oggi ne ha parlato anche sky trattene ve lo metto qua trattenere dibala e la missione della roma parleranno con lui e lo convinceranno daniele de rossi pensa che sia un tassello fondamentale per tornare in champions nessuna conferma su interesse di atletico e barcellona al momento però stanno sempre vigili a questo ma hanno detto ma la roma farà di tutto per trattenerlo firmato la puente sempre la puente io ve l'ho riportato cosa occorre adesso ragazzi la prossima settimana ci sarà un meeting un summit decisivo ve l'ho detto tra chi soffi che si spera che ritornerà a roma dovrà sbrigare le ultime pratiche burocratiche tutti stanno dicendo che lo hanno avvistato fuori dal raccordo su un vespino 50 e a fare le file alla posta per pagare le bollette non è vero un cazzo ragazzi perché in pratica chi soffi come è venuto è ritornato in francia ma attenzione perché non è vero che non sta lavorando ma sta lavorando sotto traccia chi soffi sarà il prossimo ds della roma ha già firmato ragazzi c'è una firma nero su bianco non si ritorna indietro molti stanno dicendo è se n'è andato se n'è scappato non ritorna no ragazzi sta già lavorando sotto traccia è già ha effettuato determinate chiamate v'ho riportato le notizie gli altri giorni adesso la andiamo ancora una volta a sviluppare qua ci sarà questo incontro con chi soffi la presidenza lina sul ucu de rossi e si deciderà quali saranno le prime mosse di mercato ovviamente il mese di giugno andrà a sancire la fine del bilancio della stagione 23 24 dal primo di luglio si aprirà la nuova stagione quindi il nuovo bilancio la roma deve chiudere conti deve chiudere conti e riaprirne di nuovi quindi dobbiamo fare in modo che conti finché adesso stiano messi a posto quindi stiamo in verde avete visto paletti del settimana climent allargati abbiamo sempre altri paletti nel financia per per la roma deve fare le plus valence perché quei paletti ce li abbiamo sempre un po più ristretti però ce li abbiamo sempre la roma deve chiudere conti in maniera positiva ci siamo e dobbiamo vedere altre soluzioni da effettuare dentro il roster della roma con determinati giocatori giocatori che devono prendere il largo e se ne devono andare tra cui ci sono i rientri dei vari prestiti con bulla mi aspetto che se ne vada in arabia soddita dal suo amico fienga che è il suo amministratore delegato della nasser la squadra di cr7 mi aspetto che belotti se ne vada via con interessi di determinate squadre che sono rientrate proprio adesso dalla serie b sono state promosse e poi vediamo il da farsi con azmu e determinati e determinati esuberi come ad esempio ebramo oggi hanno detto che bramo vale restare a me non risulta ragazzi la roma lo ha messo già sul mercato e sta lavorando per un'uscita perché ovviamente la roma deve andare a caricare sul budget del mercato e lo farà con queste uscite qua e vi ricordo perché eri qualche spiritoso sotto ma scritto ma siccome si deve informare prima di parlare di queste cose tutti e dico tutti i costi della roma dei giocatori presenti per questo anno se escono posso essere possono essere riutilizzati un esempio sono i 3 milioni e 6 che prende azmu un altro esempio quello di spinazzola tra ammortamento di cartellino ingaggio questi possono essere tutti riutilizzati e poi lo vedremo ragazzi e comunque sia ci sarà questo incontro con dibala l'occasione è giusta per togliere la clausola e quindi alzargli il contratto ci sarà sicuramente un contratto spalmato sul triennale esattamente fino a quanto resterà De Rossi e Ghisorpisi spera spero che non ci sarà più un cambio ragazzi almeno questo è quello che io mi spero e poi andiamo a vedere che ruolo sarà il primo innesto sono usciti un paio di nomi me lo state anche chiedendo ma Turam che succede ma quell'altro giocatore che succede è vero Ghisorpisi ha fatto un po' di chiamate molti dicono di no che non stanno lavorando no ragazzi mi fanno sapere che ancora non ci sono negoziazioni ma stanno già sondando il terreno si aspetterà per affrontare una trattativa vedremo da che punto partire vedremo che punto saremo la prossima settimana con un budget che verrà discusso internamente nel board della Roma dove sarà presente anche Ghisorpisi e De Rossi ma Ghisorpisi già si è mosso ha contattato l'agenzia del giocatore Jonathan David la stessa agenzia di Conelli altri giorni ne ha parlato anche il Corriere dello Sport ve l'avevo anticipato questo giocatore centrocampista del Watford ma il primo innesto che mi aspetto non è l'attaccante ma è il centrocampista ragazzi il centrocampista la Roma deve fare un centrocampista affinché vada a mettere a sedere o Pellegrini o Cristante in caso di non uscita perché non mi risultano che siano in uscita anche perché i giocatori qui presenti devono fare l'europeo quindi secondo me rimarranno alla Roma verranno rivalorizzati e valutati in seguito anche a detta di Spalletti che vieterà assolutamente a questi giocatori anche in caso di offerte dall'estero di andare a giocare all'estero anche perché vi ricordo che fanno parte della nazionale italiana per me non escono nessuno dei due anzi nessuno dei tre e nessuno dei quattro El Sharawi, Cristante, Pellegrini e Mancini tutte e quattro non usciranno ragazzi ve lo dico però serve cercare un centrocampista che vada a mettere a sedere almeno uno di questi a centrocampo perché i problemi quest'anno li avevamo a centrocampo e due nomi che potrebbero far sì che ciò accada perché finché escono i nomi di Maldini, i nomi di Nanders, i nomi di non lo so questi giocatori qua che non possono mai e poi mai impensierire i suddetti giocatori ragazzi questi ridono e se la cotono sotto i faraglioni quindi dobbiamo aspettare due nomi che potrebbero mettere a sedere seriamente questi giocatori vengono dalla Francia e sono tutte e due in uscita ma hanno situazioni e storie differenti uno è Yusufo Fanà in uscita dal Monaco ve l'ho già parlato gli altri giorni costo 20 milioni ci sono un po' di squadre interessate ragazzi e l'altro è Kefren Turam su Turam la situazione è questa me lo state chiedendo tutti quanti che è successo con Turam? non andiamo su Turam? bisogna aspettare ragazzi si Turam fa parte del Nizza già firmato per un'altra agenzia uscirà perché questo è quello che vuole Nizza perché ci vuole monetizzare andrà in scadenza nel 2025 ma la gente sta pressando affinché il suo assistito ovvero Kefren Turam vada a raggiungere il free agent ovvero andrà a parametro zero il prossimo anno così possono almeno scegliere dell'offerta più succulente per quanto riguarda lo stipendio il Nizza non è d'accordo dice che vuole monetizzare non vuole mandarlo via a parametro zero è da tenere d'occhio non c'è nessuna squadra concretamente sul giocatore al momento l'altro Fofanat dicono che ci sia il Milan a me assolutamente non risulta che c'è il Milan ragazzi ma è un giocatore da tenere d'occhio perché anche lui scadenza 2025 e uscirà il prima possibile quindi attenzione quello che mi aspetto sarà il primo colpo a centrocampo lì mi aspetto veramente un colpo che mandi a sedere sia Pellegrini che Cristante o uno dei due aspettiamo e vediamo un po' cosa succede questi due giocatori hanno tutti e due il cartellino intorno ai 20 milioni perché sono in scadenza 2025 tra l'altro il Monaco ha già acquistato il cartellino il prezzo del cartellino di Yusuf O'Fanat se poi non dovessero arrivare questi mi aspetto profili simili a questi di caratura europea o magari preferibilmente futuribili che siano ovviamente in ottica top squadre perché finché ci avvinano questi giocatori che non possono mai impensierire i centrocampisti ragazzi io vi ricordo la prima giornata di campionato di Serie A quando ripartirà la Serie A se vedo la triade al centrocampo ragazzi allora qualcuno deve darci delle spiegazioni ai microfoni altri due nomi che dobbiamo andare a monitorare che mi hanno fatto ieri uno è di Greenwood ragazzi che non credo che verrà mai a Roma però ve lo metto sul mercato vi do delle indicazioni perché quello che mi hanno fatto sapere è che in pratica Greenwood per chi non lo conoscesse è un esterno un'ala d'attacco destra in uscita dal Manchester United e mi è stato riferito che in pratica interessa a vari paesi soprattutto in Italia il prestito è possibile solamente se in questi mesi il Manchester che vuole monetizzare con Greenwood non riesca a trovare nessun acquirente magari ad agosto se non hanno trovato nessun acquirente potrebbero rimetterlo in prestito per adesso non mi risultano né trattative con il Borussia Dortmund e nemmeno con l'Atletico di Madrid rumors che non trovano riscontri un altro giocatore si parla dell'ala sinistra ragazzi da tenere d'occhio che mi hanno detto che sarà sul mercato ci sono almeno 5-6 squadre che lo stanno attenzionando viene dal Brasile e si chiama Wesley Gasova esattamente dal Corinthians parlo di un 2005 ragazzi quindi 19 anni e osservato anche dal West Ham dal Liverpool e ci sono dei 5 ISA Club quindi è un prospetto futuribile se nei prossimi giorni dovesse uscire questo nome qua non mi stupirai perché me ne hanno parlato molto bene il giocatore attenzionato da vari club in Europa e magari potrebbe essere un'alternativa se la Roma non dovesse riuscire a chiudere un top di reparto su quel lato ovviamente in futuro ragazzi il mercato è lungo aspettiamo se il video vi è piaciuto lasciatemi un bel like commentino sotto iscrizione al canale datemi le vostre opinioni rinnovereste di bala sì o no fatemelo sapere sotto ragazzi cosa ne pensate dei centrocampisti che vi ho nominato Turam e Yusuf Ofanah ragazzi magari siano questi o profili simili attenzione non sto dicendo che arrivano questi o profili simili fatemelo sapere sotto nei commenti attivare la campanella per tutte le notifiche e gli aggiornamenti e ricordatevi di citare sempre la quinta abbasso i faciolari abbasso gli oli di tonno ciao a tutti buona giornata e sempre forza dai dai Grazie a tutti.